Nel piazzale Monsignor Garcia, domenica mattina si è tenuta la terza tappa del campionato calabrosiculo di Vespe. Organizzata dal Vespa Club di Caltanissetta e denominato Primo Memore a Lidio Andaloro, gli appassionati delle Vespe, divisi in categorie, si sono sfidati in una gincana, una gara all'aperto nella quale i partecipanti hanno percorso un tracciato tortuoso e reso impegnativo dagli ostacoli, nel più breve tempo e con il minor numero di penalità possibili. Noi abbiamo voluto intitolare questa tappa Primo Memore a Lidio Andaloro. Lidio Andaloro è stato un nostro Vespista, nonché facendo parte del direttivo, nonché anche cofondatore di questa associazione che è rinata, è stata e costituita nel 1957 e poi è stata abbandonata ed è stata ricostituita nel 1996 grazie anche a Lidio Andaloro. Lidio Andaloro è stato, come ho detto prima, dirigente di questa associazione per almeno dalla Costituzione ed era anche un campione regionale di gincana e quindi abbiamo voluto dedicare questo memorial, quindi Primo Memorial, sperando e sicuramente ce ne saranno altri a seguire, a questo nostro Vespista Lidio Andaloro. Questo è l'ultimo evento del cartellone del settembre nisseno, è stato spostato ad oggi in quanto il 25 di settembre era una giornata elettorale e quindi oggi siamo pronti per assistere a questo Primo Memorial in onore di Lidio Andaloro, grandissimo appassionato di Vesp e chiaramente molto conosciuto in città. Come vedete alle mie spalle c'è già il percorso da questa mattina, hanno iniziato a montarlo, è molto intrigante, anche molto spettacolare nelle sue parti, più tardi si svolgerà la gara e poi il pomeriggio le premiazioni. Grazie a tutti.